Giorgio Giordano, responsabile del campestivo del Caraglio Calcio, tuttora in corso. Come sta andando questa edizione? Benissimo, le aspettative erano quelle di fare un numero decisamente più basso di ragazzini, ma siamo arrivati per fortuna nostra dopo sei anni al settimo campestivo a raggiungere una quota di 55 iscritti, numero altissimo considerando che questo è nato sei anni fa da un'iniziativa mia e della mia collaboratrice Barbara Luciano per dare l'opportunità a tutti i ragazzini di provare a giocare con noi, a divertirsi con noi senza alcun obbligo e con la libertà di iscriversi soltanto allo stage senza poi essere obbligati a iscriversi all'annata sportiva qua Caraglio Calcio. Gli obiettivi del nostro stage sono cinque, li suddividiamo praticamente sui cinque giorni della settimana, a partire dal dominio palla, il secondo giorno il passaggio, il terzo la ricezione, il quarto finta del libro, il quinto il tiro in porta per chiudere al sabato con un allenamento, un riepilogo di tutti i cinque gli obiettivi. Questo dilungato per due settimane dove il secondo sabato della seconda settimana concludiamo con una giornata di allenamento mista a un torneo finale con poi la consegna degli attestati e una festa di chiusura. Caraglio Calcio che a settembre organizzerà quella che ormai è una consuetudine ovvero il trofeo Liprandi. Sì, posso confermare che anche quest'anno come già ormai da sei anni il Memorial Liprandi vedrà partecipare le società professionistiche di Juve, Fiorentina e Torino con l'aggiunta di molte squadre della zona di buon livello per dar vita a un torneo che ormai è importante, forse uno dei più importanti nella provincia di Cuneo. Grazie a tutti.